vai speriamo speriamo ai ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Pokemon Go come avevamo preannunciato oggi andremo a schiudere ben nove uova esattamente ragazzi allora come potete vedere siamo a 7.6 km e gli altri a 2.4 non siamo stati proprio precisissimi in ogni caso tra poco dobbiamo giungere pure quella da 2 km a quel punto dovremo camminare appunto 2 km per far schiudere tutte le nuove uova avevo voglia di dire appunto oggi è la giornata degli appunto in ogni caso visto che ci dobbiamo fare 2 km chiacchiereremo passeggeremo al sole c'è un bel caldo che ci fa squagliare insomma le solite belle cose ci attiviamo anche un aroma perché non si sa mai che magari magari per una volta abbiamo fortuna un pokemon decente per una volta che poi che poi ci tengo a dire che i pokemon fighissimi li abbiamo trovati tutti in casa in questo periodo perché abbiamo trovato in questi giorni ragazzi mamma mia abbiamo trovato un omanite abbiamo trovato vulpix e poi chi altro c'era c'era qualcuno aereodactyl aereodactyl esatto e secondo me anche magmar dopo che abbiamo fatto il video magmar l'abbiamo preso vero? cioè tutto in questi giorni dopo che abbiamo fatto quel video li abbiamo trovati quando fermi in casa io penso cioè poi usciamo cioè attiviamo la Roma non troviamo nulla ma vi sembra allora abbiamo preso un growlit vabbè vulpix l'abbiamo preso anche stamattina ne avevo presi due si no tu ne hai preso due a me è scappato c'è forza anche la notte scorsa però l'ho preso solo io a lui è scappato esatto è stato maleducato quella volta sono stata più fortunata io di te uffa poi aereodactyl da eccolo qua 779 bellissimo davvero questo è carino l'avrei voluto da 1200-1300 però dai vabbè dai meglio di nulla alla fine diciamo che è da collezione è molto che li stiamo trovando fermi in casa esatto non è troppo utile per palestra o cose del genere però è da collezione poi appunto il vulpix è scappato infatti ce l'ho nel diario il magmar e credo che abbiamo finito giusto ok allora prima di tutto credo che tra un pochettino mi accascia la terra e inizia a stracinare non succede niente guarda te l'ho detto almeno se muore uno dei due succede qualcosa in un video ci tengo a precisarlo che quindi pazienza le energie iniziano a mancare e guardate cosa abbiamo trovato un Venonat carinissimo che è 38 di potenza quindi inutile però ed è carino da avere la collezione sì non è male ma qui siamo nella zona di piazza Giovanni abbiamo notato che effettivamente alla fine è una delle zone dove si trovano pokemon più carini quindi adesso speriamo che oltre a questo Venonat ci troviamo almeno un altro carino esatto e per le uova ragazzi ormai non manca troppo poi nella zona di piazza Giovanni è piena di pokemon d'acqua non capisco perché ah no aspetta però è sempre pieno aspetta siamo in mezzo alla strada non troviamo ombra da almeno 10 minuti sinceramente ci vorrei stare un po' allora guarda 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 quindi siamo pieni di pokemon d'acqua quindi magari si possono trovare anche pokemon d'acqua interessanti dato che noi ne abbiamo pochi ci manca un chilometro ok bene o male facciamo che sia un chilometro non male non male speriamo sia lo giusto perché non ho sempre aggiornato bene però un chilometro dai dovremmo farlo diciamo ma vorrei fare in corso d'età per finirlo comunque allora ricapitolando abbiamo due uova da 10 che saranno quelle dove abbiamo più possibilità di trovare qualcosa e sono le prime che si aprono per di più ok poi ne abbiamo una da due chilometri che anche quella si può trovare almeno i pokemon starter che sono sempre ben accetti quindi anche lì ci possiamo sperare non abbiamo potrebbe essere una cosa fighissima e poi sei uova da 5 chilometri che tendono ad essere le più deludenti ma possono riservare grandi sorprese perché ad esempio ci sono no qualcosa da 5 però di molto carina sai cosa c'è? sì ci sono i 4 pokemon che puoi trovare ognuno in ogni regione perché non so se lo sapete ma c'è un pokemon che si può trovare solo in America uno solo in Australia uno solo in Europa e uno solo in Giappone solo dalle uova noi abbiamo Mr. Mime in Europa esatto in Europa e Mr. Mime e solo dalle uova possiamo trovare gli altri tre quindi trovare uno di quelli sarebbe una figata pazzesca un bel caurus no 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 quello che salta il canguro quello dell'Australia quello è in assoluto il più bello credo che sia anche il più raro perché sinceramente io non credo di aver visto molti screenshot ad esempio anche quando abbiamo fatto la consolini challenge io lui non l'ho mai visto in nessuno screenshot è vero quindi secondo me lui è proprio il più raro e anche il più figo cioè io lo lavoravo vedete noi li troviamo nelle uova facciamo un viaggio in Australia col GPS dal Giappone all'Australia è certo lo facciamo proprio capito? boom in un secondo teletrasporto così li sfidiamo e vediamo se sono bravi a bannarci in fretta allora siamo riusciti ad entrare ma guardate guardate cosa ci è capitato che carino però clicca bene scusami potrebbe essere fortissimo potrebbe essere fortissimo come scarsissimo dai ti prego ok madonna è fortissimo però ok 883 è tantissimo si lo so però dobbiamo riuscire a catturarlo quindi non festeggia proprio nulla dai dai ok non iniziare a picchiare stai fermo lo sapevo che l'avrebbe fa ti scarso tu però quando ho le ultra ball ho paura di sbagliare e allora sbaglio e sbagli perché con le pokeball ormai non ti è mai capitato vai dai imbarattante cerca di centrarle in bocca ok l'ho preso l'ho preso dopo volevo fare canestro canestro della sua bocca 1 2 non scappare almeno ok dai è una sfida leale finché non scappi stiamo andando ansia anche perché picchiano tantissimo ormai non stanno a fermi un attimo guardali cambiano cose diventa sempre più fastidioso il gioco è una gara noi ridiamo è una gara quanto diventa fastidioso dai ok andati questa ragazzi è una cattura proprio con i controfiocchi bisogna dirlo hai notato cosa ho riusato che poi è del poker ex perché noi in effetti avevamo trovato soltanto bel frutto normale e lui non l'avevamo mai trovato 883 mica male mica male abbastanza forte abbastanza forte oh mio dio quello che c'è un giorno mi dice l'avevo detto che qua è pieno di pokemon sono tutti d'acqua ragazzi ma noi vi giuriamo che qua c'è una piazza senza nessun tipo di acqua è una piazza con un oratorio e una chiesa quindi finito non c'è altro ci sono anche ricampetti da calcio magari contano come acqua non so in che modo no perché dall'altra parte della piazza c'è una fontana ma che è sempre spenta quindi forse hanno contato la fontana come ritrovo di pokemon d'acqua non lo so io comunque sto pensando di fare avanti indietro qua perché almeno c'è un'ombra e un fresco davvero fantastico anche perché ti informo che mentre laggavano i server i chilometri non ce li ha contati quindi siamo ancora a un chilometro da fare bello quindi sì mi sa che un po' di avanti indietro ti piace come idea io lo so facciamo che lancio il telefono nelle uova da dieci chilometri io non so se voglio di più Snorlax che è davvero bellissimo o Lapras perché anche Lapras ragazzi sono belli tutti e due non lo so che sceglieresti? tutti e due speriamo di troverle sulla sua pancia sulla sua pancia quindi starei felicità sarebbe comodissima invece è l'ombra a svuotare non mi piace andare in mezzo al mare no ma li stai sopra capito? no non mi piace neanche stando sopra qualcosa ma ti fa da parco no grazie da parco che ti sorrite no perché sto sulla terra lo sappiamo allora ti aggiorno sulla questione chilometri secondo me un po' siamo andati avanti e invece no 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 secondo me sono allora il server non è crashato però hanno annullato il contatore di chilometri perché sapevano quello che stiamo facendo lo trovi plausibile? si è plausibilissimo è un complotto praticamente ce ne stavamo andando da questa zona ci stiamo girati abbiamo visto i tre poche stop ativi vado a vedere che c'è la luce guarda guarda oh mio dio si 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 io non so cosa sta succedendo ragazzi ma la fortuna è dalla nostra parte lo scorso video doveva essere un video di catture è andato malissimo questa volta dovevamo solo aprire esatto le uova invece stiamo trovando tantissimi poche ho usato un ultra ball anche se è pikachu da 80 cioè ti giuro oh mio dio abbiamo pikachu abbiamo pikachu cioè non sai cosa dire un mente che lo stavamo cercando finalmente l'abbiamo giunto al pokédex pika pikachu non c'è bisogno che puoi vertigrante no 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 sono felicissima stiamo scherzando? cosa c'è? stiamo scherzando sono finiti i pokéstop no c'è n'è ancora uno c'è n'è ancora uno corri no scusa è l'unica parola che non ti devo dire in questo momento però risulta ancora attivo quindi no è appena finito anche prima anche prima in un'altra zona abbiamo sbagliato esatto in un'altra zona abbiamo visto dei pokéstop attivi siamo andati appena siamo arrivati stiamo finiti vedi la spiga di oggi è questa che facciamo finire i pokéstop non appena arriviamo però però abbiamo preso un pikachu dai ne becchi solo uno un solo pokémon c'è nì abbiamo fatto anche una registrazione che poi non è mai uscita dove abbiamo attivato tre pokéstop ragazzi per 30 minuti un'altra volta ne abbiamo attivato due per 30 minuti tutte e due registrazioni bruciate perché non abbiamo trovato nulla poi non ve ne parliamo queste cose non troviamo nulla no beveste non si trova nulla esatto in mezz'ora e poi vai così ne becchi uno solo alla fine quando scade il tempo siamo stati rimagati di tutte le nostre fatiche di tutti i nostri pokéstop sono stati più inutili cioè oggi il video proprio il video è di dieci video lo chiameremo così no è terribile come titolo il video di nove uova e dieci cose beh no è bruttissimo si è ancora peggio ah comunque in tutto questo ci siamo dimenticati mentre stavamo andando via da quella piazza quando poi ci siamo accorti che c'erano questi pochi stop attivi ok che poi erano attivi a mezz'ora e non li abbiamo visti a me sembra impossibile allora c'è un telefono a me sembra impossibile comunque mentre andavamo via abbiamo preso anche slow pok quindi oggi abbiamo preso venonat weapon ball slow pok e pikachu cioè davvero davvero hashtag caccia grossa caccia grossa perché ci sta sempre bene caccia grossa oggi caccia grossa e adesso sarà il momento delle uova bottino grossa 9.3 mancano soltanto 700 metri alleluia davvero alleluia la parola giusta da dire adesso facciamo perché c'è caldo non peraltro altrimenti mi piacerebbe anche camminare c'è pure un vento piacevole però il sole cuoce ok ragazzi ci siamo continuiamo a camminare perché poi le altre sono ancora a 200 metri giusto quelle da 5 chilometri non mi ricordo da 10 o da 2 o da 10 purtroppo non possiamo saperlo ok vabbè apri vai speriamo 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 ancora più deficienti che ci stanno sicuramente non me ne frega niente l'abbiamo detto potentissimo non ci credo cioè guarda non ci credo anche le abilità giuste io non ci posso credere è fantastico 12 e 100 è fantastico l'abbiamo chiamato vedi l'ho chiamato perché gli ho detto che volevo dormire sulla sua pancia e quindi lui ha deciso di entrare a far parte della nostra squadra e quindi adesso la prossima no dai adesso vediamo no dai posso non dare male tutti gli altri otto io ve lo dico no quello snorlax ok ma che buono questo però dai non male ce l'abbiamo già ce l'abbiamo già perché l'abbiamo trovato no 223 vabbè guarda dopo lo snorlax posso accettarlo posso accettarlo no guarda io come l'ho visto poi ho visto la potenza non ci ho capito più nulla incredibile allora questo è da due questo sai perché è successo aspetta sì perché quando l'hai trovato stamattina l'hai ignorato e quindi lui ha deciso di ricomparire nell'uovo allora io ho detto queste ne abbiamo fatto tre adesso mancano queste vedi ok quindi continuiamo io ho detto ok abbiamo tratto snorlax e mi va bene così però dai non esageriamo zubat è troppo anche per noi ok cioè siamo felici l'onix andava anche bene andava anche bene anche se è un po' scarso però no in realtà c'è capitato forse il peggior pokemon a 10 km possibile con onix però snorlax è tre migliori quindi abbiamo pareggiato eh però zubat zubat è il peggiore da 2 km siamo a pj cioè senza proprio nessun tipo di dubbio finalmente ci siamo ci siamo non ci speravo più allora continuiamo a muoverci un pochettino perché è capito dobbiamo farle fortuna ok non male dipende soprattutto da quanti ce ne dà vediamo un attimino 16 16 carino non è male ok poi vediamo perché ci stiamo muovendo mentre apriamo le uova perché li fai capire che hai capito che sia uno che cammina ok non c'entrava nulla no no questo proprio no proprio lui è uno di quelli che ragazzi al melodio quanto pigerata da quanto noi lo troviamo sì 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 noi lo troviamo tantissimo 19 caramelle va bene non ce ne serve uno ok ne abbiamo altri 4 dai dai sono tutti di fila poi questa è la cosa divertente uh dammene molte dammene molte che ce le vogliamo questo è bello 21 ed è da 430 questo è bello sì che bello dai dai che è andata bene lui è andata benissimo quanti ne abbiamo ancora io adoro la sua evoluzione io ho perso il conto delle uova tu credo altre 3 sì altre 3 ok dai non potevo mostrare un po' più indietro all'ombra scusami ok buono buono perché l'ultima evoluzione mi piace molto fammi vedere 457 e 16 caramelle è buonissimo dai non malissimo non malissimo poi dai dai uno bello adesso uno bello ravissimo ne mancano solo due su 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 ok quello che non abbiamo trovato prima ce l'abbiamo già però è troppo bellino 370 21 caramelle ce ne manca solo una per evolverla quindi credo che basta che no che quando chiudendo l'edicola c'è troppo chiazzo credo che basti trasferire l'altro che avevamo appunto già catturato e possiamo evolvere Poliwag che è troppo troppo carino troppo carino signori ultimo uovo ultimo dai attraverso attraverso fai un tipo di movimenti strani no no aspetta non possiamo andare da qua da qua da qua da qua non possiamo andare sei serio io stavo per dire finale col botto e guarda che è successo che il botto lo facciamo sbattendo su qualcosa perché dai pokemon di sicuro no ci fermiamo così per questo video direi che è andata decisamente alla grande allora per quanto riguarda le catture è andata bene è andata bene perché abbiamo trovato un sacco di pokemon ma anche con le uova anche con le uova alla fine dai non è che puoi avere fortuna in tutte comunque meglio aver trovato quei pokemon forti come bellissimo Zorlac piuttosto che non aver trovato nulla esatto io avevo paura che non trovassimo niente con la nostra solita fortuna esattamente poteva succedere quello invece non è successo quindi siamo soddisfatti e ci vediamo domani ragazzi ciao ciao